Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nostro Signore trattenne la sua potenza. Ed essi lo afferrarono. Così che attraverso la sua morte vivente, potesse dare vita ad Adamo. Egli dette le sue mani. Per essere forate dai chiodi. Per rimediare alla mano che aveva colto il frutto. Egli fu colpito sulla guancia. Nella camera del giudizio. Per rimediare alla bocca che aveva mangiato nell'Eden. E mentre il piede di Adamo. Era libero i suoi piedi furono trafitti. Nostro Signore fu spogliato perché noi possiamo essere vestiti. Con il fiele l'aceto. Egli addolci il veleno del serpente, che aveva morso l'uomo. Signore Gesù Cristo. Che hai potere sulla vita e sulla morte. Tu conosci ciò che è segreto e nascosto. I pensieri e i sentimenti non ti sono velati. Guarisci i miei raggiri. E il male fatto nella mia vita. Ecco. La mia vita declina di giorno in giorno. Ma i miei peccati crescono. Signore. Dio delle anime e dei corpi. Tu conosci l'estrema fragilità, della mia anima e del mio corpo. Concedimi forza nella mia debolezza. Sostienimi nella mia miseria. Dammi un animo grato. Che mi ricordi sempre dei tuoi benefici. Non ricordare i miei numerosi peccati. Perdona tutti i miei tradimenti. Signore, non disdegnare questa preghiera. La preghiera di questo misero. Conservami la tua grazia fino alla fine. Custodiscimi come per il passato. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria. Piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.